Siamo alla fine del ventunesimo secolo, il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Tra i sopravvissuti c'era la più totale anarchia e i malvagi, tipo questo, giravano a piede libero, prendendosela con i più deboli. Cliccate su questo video, vi uccide i criceti. Lasciali stare. E tu chi sei? Il mio nome è Ken e sono l'uomo dalle sette spille di acuto. Il mio corpo è il risultato di duemila anni di esperienza. Lo vedi questo? È il fratello di questo. Se solo volessi, potrei strapparti la vita dalla bocca con una sola mano. Conosco ogni punto segreto di pressione. Inoltre, sono velocissimo, agilissimo, bellissimo, velocissimo, che forse ho già detto. Sono agilissimo. VELOCISSIMO, dice lui. Non ero pronto. Povero microba, che cosa hai fatto? Hai rovinato una delle mie spille di acuto. E che cavolo è acuto? Ignorante. Acuto è il paese in cui cresci... cre... cre... è il paese in cui crescei... crescenti... cres... cresceissi... Si vede proprio che sei di acuto. Sei già morto. Colpo alla tempia. Detto colpo della sacra demenza. Si tratta di una particolare tecnica chiamata Keiraku Iko, della Divina Scuola di Akuto, creata nei tempi antichi dal grande maestro Shuken e ispirata al Sushi Tekken. Questa... era la terribile mossa... Lo so! L'ha già detto la voce fuori campo! Vabbè. Comunque... ho premuto uno dei tuoi punti segreti di pressione. Ti rimangono... venti secondi di vita. Ma se sto benissimo! I primi effetti saranno... Desiderio impellente di andare in bagno. Voglia di ballare. Ogni tipo di ballo. Macarena. Rap dance. Asereie. Banda classica. Dopodiché... esploderai. Non sarebbe mai riuscito a battermi. Il mio corpo è il risultato di duemila anni... di esperienza. Io sono l'uomo dalle... sette spille di acuto. Ehi, ehi, ehi! Ehi, ehi, ehi! Ehi, 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 ehi!